Abbiamo effettuato un sorvolo insieme al prefetto e al comandante della Guardia di Finanza per verificare le condizioni delle zone più in difficoltà della città, ce ne sono tante. L'invito che faccio ancora una volta è, se ci sono problematiche, chiamare lo 0444 54 53 11, anche se c'è bisogno di sacchi in alcune zone particolari della città, chiedeteli attraverso questo numero. Ricordo che ci sono comunque i tre punti di distribuzione per la zona del Retrone, in Viale Fusinate, in Piazza Matteotti verso Viale Giuriolo e in Piazzetta Santi Apostoli che vengono continuamente ricaricati. Ma se servono sacchi in zone specifiche, chiamate, chiedeteli con la protezione civile nel limite di tempo che ci è dato, ma arriviamo e li consegniamo. Anzi, grazie di cuore ai volontari della protezione civile, della Polizia Locale, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, degli Alpini e di tutte le realtà che ci stanno aiutando in questa fase così difficile.